Una maxifrode fiscale di circa 70 milioni di euro è quanto fino ad ora scoperto dalla Guardia di Finanza di Chiari che dalle prime ore dell'alba ha messo in campo 280 uomini per una serie di perquisizioni nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Milano e Varese, disposte dalla Procura della Repubblica di Brescia e nate da complesse indagini di polizia giudiziaria nel settore delle frodi fiscali. L'indagine non è conclusa ma già da ora ha fatto emergere l'esistenza di una vera e propria organizzazione radicata nell'Oves Bresciano, dedita alla fraudolenta gestione di numerose aziende, per lo più nel settore di Ile. Il coordinamento dell'illecita attività avveniva in uno studio commercialistico lombardo dove avvenivano particolari consulenze aziendali finalizzate all'evasione fiscale attraverso la falsa costituzione in bilancio di crediti nei confronti dello Stato, essenzialmente creditiva, da utilizzare in compensazione di debiti, specialmente contributi previdenziali, che quindi di fatto non erano versati. I componenti dello studio commercialistico, pienamente consapevoli che la maggior parte delle società in questione erano intestate a meri prestanome, intrattenevano regolari rapporti con i veri amministratori delle imprese incriminate. Non solo, spesso i prestanome erano procacciati dallo stesso studio commercialistico, che curava anche tutte le pratiche concernenti le fitizie domiciliazioni delle sedi societarie e dei propri clienti, così da metterle a riparo da possibili interventi da parte degli organi ispettivi. 69 le persone, fino ad ora deferite all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di truffa aggravata, impiego di denaro o di beni di provenienza illecita, dichiarazione infedele omessa, dichiarazione ed indebite compensazioni per una froda che, per quanto fino a oggi è stato accertato, ammonta circa 70 milioni di euro.